Perché mi guardate così? Si svelano scomode verità. Anche se Andresse sapesse che Don Carlos era suo padre, non potrebbe dimostrarlo. I segreti pian piano... Ho scoperto qualcosa. ...affiorano in superficie. Sui resti della lettera c'è la data del 10 febbraio. E il mio padre è morto il 9. Io so che mi nascondi qualcosa! Tu conoscevi bene il mio padre. Voglio solo sapere la verità, Alicia. La nuova serie in prima TV assoluta. Grand Hotel, intrighi e passioni. Domenica in prima serata, Canale 5.